non è ghiacciata solo l'acqua stamattina è ghiacciato anche il terreno si fatica anche a camminare vabbè vediamo se c'è qualcosa grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sempre più cattivi con il freddo che è con la bella stagione. Wow! Ho paura a toccarlo. Ok, ma fuori da me la sono fatta. Wow, 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 wow. Ciao, bello. Grazie mille. G-Head 1.3. Una via di mezzo.